questo sarà l'ultimo episodio della maratona ok fra dimmi tofra cosa c'è greve c'è un po' di ricordi vai assolutamente via vai via totta vai via da lì vai via ci sono un po' di ricordi qua parisci wow grazie Bertra allora la mia idea è quella di fare l'ascensore qui e prendere la soul sand per trasferirci sopra le montagne così possiamo scendere e salire tranquillamente ci sta non è una brutta idea quindi io ora me ne volo nel nostro nether ah però non abbiamo niente d'oro vero? ah no si eccoli c'è un po' d'oro poco poco mi posso fare i piedi? totta tu sei andato nel nether? si quanto lontano era la foresta rossa? ma chi è che ha tolto l'acqua dal nether? l'acqua per salire veloce? nessuno e non c'è più ma che cazzo? ma? era nello stesso buco da dove scendevi? no sono due diversi ah ok allora forse nell'altro c'è ancora lo saprò dopo vengo anche nel nether voglio il legno rosso allora aspettatemi vengo anche io a sto punto datemi 10 secondi ah è sparito anche il nostro villager qua dentro ora c'è uno zoom nooo la mia bellissima casetta la mia bellissima casetta suona rock e tutto il resto all'occorrenza beh è stato un emozionante viaggio nel nether comunque e ora volo via mi dai i piedini? certo perché quando te lo chiedo io non mi dici mai così? è venuto un pigman con te totta eh vabbè gli sono simpatica sono morto vabbè tornerò qua dopo eh ho un cuore è uno scheletro che mi sta sparando mentre sono sulla soul sand unlucky bro diciamo tu sei andato nel nether bertra bertra devi farlo tu non so sto arrivando totta non è nulla di personale lo sai vero sono solo affari sono solo affari l'ho trovata l'ho trovata sta scappando nella tagione ah è nella tagione minchia dov'è la tagione? che significa segui il regolamento? cosa sta facendo? è sbagliato oddio è così vicino dov'è dov'è dov'è? ma è pure così lontano cioè questa è una lotta a pugni di una cattiveria imbarazzante sabbia contro pietra dove siete amici? non vi trovo però dai dovrei vincere sta lotta dai Leo ce la puoi fare ce la puoi fare ce la puoi fare ce la puoi fare Leo ce la puoi fare ce la puoi fare metti via quella bistecca ce la sto riportando arriva Bertra Bob prendetela si no sembra di vedere la vanillettina e anche il buco boom boom dove sei morta Totta? qui praticamente che palle non capisco dove devo andare ma non posso chiedere vuoi che ti vuoi che ti accompagno? non posso Totta sono un uomo non posso chiedere vuoi che allora vado casualmente a prendere il legno e tu mi vedi e mi segui? ecco già meglio mi hai inculato i piedini d'oro però non ho altro oro per rifarli ok devo essere un bravo lupetto e trovarlo da solo oh Sporna ci scarica è il momento di aiutare il seccio dell'ava ma come no non è possibile che sono scarica io ho messo la kelp 4 di kelp sono 20 blocchi per pezzo di kelp no questo no creeperoo Leo si è rotta la tua macchina la mia macchina? si è esploso il creeperoo? eh ma come si è esploso il creeper? quando? eh il Tanius l'ha appena fatto no era ti faceva solo scomparire l'oggetto in mano eh ma no ti butta l'oggetto per mano e le spawn al creeper no no 900 si ah ops ho solo mollato il creeper dietro e non me l'era accorta beh adate quindi vuol dire che i miei atens stanno ancora lì vicino al creeper comunque no non c'era il dried kelp nelle tramoggi ah si c'è ma è si è intoppato perché c'è un blocco di terra ma è della carne in una delle tramoggi che va nei combustibili ok basta tanius porco il basta ma questo è veramente porcaccio chi è detto a questo video mettere il mio pov perché? perché ho fatto parkour per scappare tra scheletri sono riuscito a saltare di tutto ho schivato frecce mezzo cuore riesco a chiudermi dentro perfetto in un buco e in quell'esatto momento spawn al creeper tanius il secchio va nella tramoggio e poi va ah manca la la leva basta 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 divento pazzo io vincere divento manco e che stupidi ragni che non sanno andare sott'acqua cosa siete insietti siete troppo leggeri stupidi siete arachidi per te vuoi venire a bullizzare anche te i ragnetti fuori qua dalla cosa? no grazie guarda non riescono ad avvicinarsi non bullizzare quelli più sfortunati di te Leo pugnetto oh no uno è morto pugnetto amori miei amori miei della chat quante pippe in faccia vi darei pizze cosa? eh? niente raga è andata male chiedo scusa non devo più parlare dopo una certa ora io non so neanche più cosa fare sto cercando di il mio cervello di capire le azioni da compiere alle dita ma le dita sono tipo alle dita no creeper quella alle dita ti è uscito molto dall'agischianto alle dita eh l'ho detto in napoletano opposto tutta napoletana tutta napoletana Bert ha distrutto madonna tantissimo assolutamente sì io sto costruendo solo perché ormai mi sono no mi sono prefissato di finirlo e quindi non sarò felice finché non avrò fatto tutto questo poi me lo distruggeranno addosso e io diventerò tipo un tricheco opaco opaco papà 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 ma totta è morta no sta sta dormendo vedi vedi che dorme lì in fondo alla piscina ora dormo ora mi sono messa a dormire dorme lì in fondo no no ho laggato oh cavolo sono casciato dal server Bert era anche te è arrivato quel fulmine gigantesco vicino a casa tua che ti ha fatto casciare dal server ah sì cacchio oh fuck eh con questo temporale è proprio wow ma non eravate qua dietro raga scusate no per nulla io ero lontanissimo ero assolutamente al portale del nether quando Surry ti invita a casa per un po' di minecraft and chill e poi vuole fare sesso eh bro dov'è il mio minecraft parli per esperienza sì che ha dato la sua spora nel prossimo episodio ah giusto scusami dimenticato poi dovremmo spostare le cose dalle vecchie cesta a delle ceste nuove che dovremmo waterloggare di nuovo eh è servito un sacco eh sì ma perché le abbiamo messe una sull'altra e quello è stato il nostro gravissimo errore eh però raga se non le possiamo mettere a livello alto le ceste perché metti caso che io sto sotto quando fanno la tentipocal e me la prendo nel culetto capito tipo qua guarda di fianco all'ascensore e le mettiamo pure sotto terra cioè un blocco per terra vaffanculo sì assolutamente interrato che palle pure i sapling di Darkhawk sono andati persi insieme a tutto il Darkhawk ma come pure i sapling eh sì perché era nella cesta vicino alla casa quella in alto se solo li avessi messi in ordine Leo sarebbero andati persi a quest'ora no la cassa del legno c'è tutta intatta ma quelli non dovevano essere messi in ordine andavano vicino a costruzione per quando costruivo non era andare a mettere nel magazzino sì sì vabbè ripetitelo non lo so intanto non hai i sapling sì sì intanto l'ordine nel magazzino non c'è più il magazzino e l'ordine della casa almeno la casa c'è ancora eh la casa c'è ancora la mia casa questa qua su in montagna ah ok la nostra casa ero tipo no no la nostra casa ho una brutta notizia totta eh infatti non volevo vivere il trauma un'altra volta ha tipo la psiche di totta ha eliminato tutto casa nostra casa nostra sta benissimo non la vedi laggiù totta ti prego l'incidente è stato dieci anni fa devi lasciarlo andare addio che zuzzurelloni che sono i nostri simpatici fan ciao totta ciao leo come stai tutto bene tu è bene qua su fa un po' fresco puoi scendere piazzano il vetro perché quando si rompe fa lo stesso rumore del loro cuore durante la TNT Pokébs wow il paradiso tu vivrai se tu scopri quel che hai io tutto bene non ti accorgi che io amo già te non penso stia bene non so cioè chi di noi può dire di stare bene io no posso dirti che io non posso dire io ahah io sì so benissimo e tra parentesi la cantante che cantava sta canzone l'avevo ascoltata e ero un sacco mi diceva madonna che brava me l'ascolto per un sacco e quando l'ho ascoltata e tutto ho scoperto che era morta tipo sei mesi prima ed ero oh ero un po' triste l'hai intata quanto vetro state facendo ma siete fortissimi è tutta la tua fornace ma sì ma c'è guarda come state andando avanti proprio blu 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 mi piace il blocco di di acqua che è rimasto dalle ceste waterlogate first try che è lì proprio bello ma in realtà l'acqua delle ceste waterlogate sta bene è l'unica cosa che sta bene no era in altre pietre quindi non c'è è morta eh sono morta perché? D'ora in poi se dobbiamo costruire delle cose ognuno costruisce molto distante dall'altro così in caso si minimizzano queste situazioni Che bella parola minimizzano Amo che cambia scusa Beh che come hai visto casa di Leo è rimasta vagamente intatta Ma anche la miniera Quindi distanziare le nostre proprietà può essere utile onde evitare drammi eterni Quindi minimo 64 blocchi tra una proprietà e l'altra Sì apparentemente costruiamo perlotti Esatto esatto e poi per comunicare per unirci faremo un sacco di minecart e un sacco di cose Siamo tutti a favore di questa mozione Sì Va bene A me aveva fatto troppo ridere tempo fa che me l'ho messo a giocare con i miei amici che hanno il server di minecart E' entrato con loro A un certo punto c'è un tuono che prende un creeper diventa Charged Creeper E tutti quanti fanno No no scappa scappa c'è Charged Creeper Arrivo io proprio in tutta tranquillità L'ho ammasso senza neanche preoccuparmi Talmente ero abituato Sto proprio in tranquillità totale Via Ma dove sono finiti i baggetti di lava? Solo uno ce n'era? No abbiamo un solo secchio noi Va messo solo in quelle già spente Queste qua in fondo Mettilo direttamente nella roba perché poi ti risputa fuori il secchio qua No no l'ho messo io a mano in una cosa Ah ma quindi c'erai tu il secchio Nooo Eh appunto Ah eccolo qua Dove l'hai messo totta? L'hai messo nel primo Totta ti ho detto in quelli vuoti Eh in uno c'era e non era ancora partito il collo C'erano 64 cose Eh ma c'era ancora la fiammella C'era ancora la fiammella Finché c'è la fiammella non parte C'è molto trasparente questo vetro Un po' troppo Allora io chiedo gentilmente a tutti Tutti quelli che ci stanno guardando Di farci esplodere ma solo quando non siamo Sul tempio del ricordo Perché questo serve per ricordarci Rispetto Esatto rispetto per i caduti Porca troia I caduti siamo noi Sì molto male anche Ti ricordi Leo quando avevamo fatto il nostro tentativo in hardcore Di vincere Minecraft nella 12 ore? Che io non capisco ancora perché ci abbiamo messo così tanto E non ce la facevamo Perché era in hardcore secondo me Eh ma ci abbiamo messo veramente troppo tempo Sì non lo so Ma ci siete riusciti? No Non in creativa abbiamo imbrogliato alla fine Ah beh allora Alla fine perché siamo arrivati al portale Siamo morti E allora siamo tornati No non eravamo morti C'era una ender per le Dopo 12 ore siamo arrivati al portale Era senza ender per noi Ne avevamo tipo 7-8 Raga ho trovato una mineshaft No non mi hai fatto un cazzo Bertra Fai finta che non ci siete mai avanti Madonna mi ricordo gli anni in cui Appena era uscito l'Apple Watch che andava stra di moda Io l'avevo preso ed ero al liceo Alla roba di alzarti E c'era la roba che ti devi alzarti ogni tot Ogni ora devi alzarti almeno una volta Quindi c'ero io a lezione che E i miei amici che lo avevano che cercavano a sgamo di alzarci Facendolo passare per una cosa tipo normalissima da fare così dal nulla Alzarti per 5 minuti in piedi Solo per fare quella roba Ma prof me l'ha detto l'Apple Watch Storico l'Apple Watch Ma andrà sta ancora chiuso nel mio cassetto Comunque non lo utilizzerò mai più Se qualcuno vuole un Apple Watch ragazzi ditemelo A me è fabbricissimo Ve lo regalo È una grande cosa per me Però sì serve se ti alleni Allora io ho una teoria sull'Apple Watch Secondo me l'unico Apple Watch che è veramente worth l'acquisto È quello lì con il cellulare integrato Quello con il GPS No proprio con la sim integrata Il sim che ci puoi mettere la sim Esatto E se fai sport Cioè queste due sono le cose Perché puoi uscire e andare a fare la tua corsa Andare a fare allenamento Con lui che ti tracca tutto E non hai la rottura di palle del telefono Allora lì ti dico ci sta è un ottimo acquisto Per una persona normale non serve a un cazzo Sì secondo me veramente non serve a un cazzo O sei vecchio o sei sportivo A me piace Cioè nel senso A me serve quando mi alleno Ti serve Eh sì quando ti alleni Però al di fare quello non ti serve mai Cioè non è una volta È un orologio Wow per fortuna che avevo l'Apple Watch Capito? No no è un orologio Conta l'ora è carino Perché mi arriva le notifiche lì Non devo mettere il telefono È comodo quando vado in bici per cambiare canzone Eh sì però vedi c'entra sempre quello sport Capito? Sì sì Tolto quello secondo me perdi tutte le utilità Se non fosse per quello Mi sarei comprato un Citizen da 200 euro Mi sarei comprato un orologio normale Sinceramente Se proprio volessi vedere l'ora Wow ragazzi siamo già passati sui Siamo vecchi madonna Cristo Gesù Aspettate aspettate Oh raga comunque le stagioni Cioè ma vi rendete conto ora il diluvio universale? E non ha piovuto tutto a marzo e tutto aprile E adesso è tornato freddo Signora mia È assurdo Non esistono No le mezze stagioni non esistono Ma da anni ormai Dal primo governo Berlusconi Ah signora mia me lo ricordo Eh erano bei tempi quelli Erano bei tempi Lì veramente si dava uno slancio all'impresa In Italia Non come i giovani di oggi Che gli dice andare a lavorare Non lo vogliono fare Lì invece Venivano proprio incentivati Gli imprenditori E messi in luce La vera imprenditore italiana Però gli dice siete stanchi Assolutamente sì Cioè perché mi dici che non è normale Fingersi una fan settantenne di Berlusconi Mio roleplay preferito in assoluto ASMR POV Stai parlando con tua nonna di Berlusconi Sei giovani che non vogliono lavorare per 500 euro al mese Ai tempi miei si faceva la gavetta Non vai a lavorare per 500 euro al mese Vai a lavorare gratis per la tua famiglia allora Sì ma infatti no ma Poi gratis Cioè ti danno da dove dormire Ti danno da dove mangiare Non mi sembra gratis Vitto e alloggio costano Ma poi io non lo so 500 euro a me non sembra un poco Sono quanto 500 milioni delle macchinine Ma comunque se ci pensi Ma comunque se ci pensi le vacanze a Bali Tralasciando il volo Là la vita non costa nulla Perché sembra che avete questi discorsi Che avete ascoltati troppo Ma io questa roba di Bali Non ho idea di quante volte l'ho sentita Ti giuro Non so la roba di Bali Alla fine il sud Italia non è così terribile No no ma ti rimette proprio al mondo Cioè poi dopo hai un collegamento con l'universo Che è tutto diverso Poi costa tanto il volo Ma lì veramente Io 3 euro al giorno Non so perché Penso di sapere da che parte della tua famiglia è arrivato questo discorso No no Ah ok No? Allora dalla parte Mio nonno andava nelle Filippine lui A Manila Per lavoro Mio nonno mi ha fatto scoprire il fatto che in Africa Sono razzisti Tra di loro Ed è una roba che io non sapevo Dove? In che parte? E... All'Africa praticamente Cioè nel senso Si pensa che il razzismo generalmente è pensato tra persona bianca e persona nera Ok? Ma in realtà lì Cioè nel senso anche tipo tra regione e regione ma pesante Cioè nel senso proprio È come l'Italia alla fine No 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 Non è come l'Italia È proprio molto più cattivo lì Vabbè ma perché è tutto molto più cattivo in generale Ma cribio ma si era bagata la rec del computer Ma guardati Ma si adesso funziona Non c'è problema Cavaliere Ma si ma non ti preoccupare Ma adesso ti facciamo un camogli molto buono La tua cacina E via Ti esce bene comunque Sei un po' il berlusca tu Sto citando Cazzo stavo citando Che stai facendo? Mi si era... Non stava caricando il server Ho visto il sistema di grotta davanti Ho gli x-ray Ho gli x-ray Madonna che... Io comunque raga vi giuro Berlusconi Allora uno È un soggettone Però c'è a me c'è Cosa che dice Mi fanno troppo ridere Vi giuro Cioè io lo so che è cringe Il fatto che un uomo in politica faccia così Però cazzo quanto mi fa ridere ogni tanto Perché assolutamente è fuori contesto Faceva? Mi hanno dato A giorno stava piangendo Per Berlusconi? Madonna Quanto cazzo ha intortato tutti i vecchi Berlusconi Comunque è incredibile sta cosa No vabbè Diciamo che Non è... Della mia famiglia non è stata particolarmente intortata Diciamo che è stata... Si sarebbe vissuta bene nei momenti di Berlusconi Vabbè sì È proprio l'impresetta italiana Uè l'impresetta Che col Berlusconi Non pagava le tasse E figa Era che bello E allora adesso le paghiamo noi per loro Figa Calci in faccia di Obano Scusami Questo è personale No tranquillo Non mi fanno Tranquillo Ma nessuno l'ha notato Berta che era personale Solo che devo pagare l'IMS Io odio pagare l'IMS Io non voglio pagare l'IMS Pagare le pensioni ai vecchi Eh dobbiamo Amichetti house a Malta Uuuuh Uuuuh Io... Nella mia famiglia nessuno si prende la pensione ad esempio Quindi io la sto pagando pure a sconosciuti capito? Manca a dire che una minima percentuale va a qualche mio familiare È difficile prendere la pensione se non lavora Dipende cosa intendi per lavorare ecco Ah ok Ai tempi d'oro della donna Quindi era esattamente quello che intendevo No no vabbè dai Non direi che mio nonno non ha lavorato Ha lavorato però in un lavoro che ai tempi non esisteva Influencer No però tipo Ora sarebbe PR manager capito? Però va gliela di 50 anni fa a mia nonna che era PR manager Se non pagava i contributi comunque dai Ma zì Totta Io sono arrivato in fondo alla tua grotta Noi ci siamo dimenticati i diamanti Stanno ancora lì quanto abbiamo fatto bene a non prenderli raga La scelta migliore della mia vita porca troia Io sono arrivato qui giù a caso Li ho visti e ho detto Non li prendere Non li prendere Non serve Non è inutile prenderli Prendo solo la resta Oh raga io se non dovessi pagare l'IMSS posso dire guadagnerei molto di più E vabbè grazie al cazzo Però non pagherei un cazzo di tasse Io sto in forfettaria Comunque cioè io se non dovessi Questa è diventata una live finanza Ma noi siamo proprio stanchi ragazzi Possiamo metterci in tag finanza al video di minecraft Avrò un cpm altissimo questo video No appunto cioè io di tasse non pagherei un cazzo Cioè il 5% è veramente nulla raga Ma io sono già al 15 Che palle No io c'ho ancora altri due anni al 5 Vado a te Balla vita Oh ma siamo ad aprile giusto Poi c'è maggio E poi indovinate che mese c'è ragazzi Nessuno Non mi ci far pensare È il mio mese preferito È giugno È quello in cui devi imparare l'F24 Ah 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 E quest'anno io piglio anche il poderoso cochi Uh uh Sium Bene Tu non hai capito Berta Io ho messo l'ultimo blocco Della casa Hai quitato Mi ha crashato anche minecraft Ho messo l'ultimo blocco della casa Sono uscito dalla casa Per guardare com'era Dal tetto mi si è buttato un creeper davanti Mi è esploso Distruggendo la casa Mi ha buttato fuori Verso l'esterno della cosa Io sono precipitato Ho preso l'unico blocco Prima dell'acqua Quello è vero L'ho visto Allora quindi Questa era la nostra zona Come potete vedere È stata distrutta Oddio Ora posso vedere Le canne da zucchero di Leo Così Oddio Questa era la nostra zona È stata annichilita E ora ci stiamo facendo Tutta la parte di vetro Qua a destra Non so ancora cos'è Però vabbè È una costruzione Questa è il ponticello Poi noi qua sotto abbiamo Qua sopra si sale C'è l'ascensore E qua è dove costruiamo La nostra nuova base Ora faccio T slash game mode survival E spero di stare sull'acqua ragazzi Vai Io starò qui sotto A vedere se arrivi Madonna Che pro playerata Questa è stata una provata Ragazzi Mai visto una roba del genere Questa è la importanza